Sì, solo per annunciare che il voto del Movimento 5 Stelle su questa mozione sarà di astensione poiché non si interviene al nostro modo di vedere nella riqualificazione delle aree urbane, nell'occupazione di solo pubblico, con delle mozioni ad hoc su una specifica piazza o via, se no potremmo impegnare le assemblee copitoline da qui fino all'anno 3000, insomma, con tutte le piazze e vie storiche di Roma. Stiamo facendo un lavoro serio in commissione, abbiamo già fatto almeno due commissioni sul catalogo dell'arredo urbano, abbiamo interloquito con l'assessorato per chiedere la revisione degli arredi e sicuramente in alcuni casi questo lavoro va fatto in congiunzione con il Dipartimento Ambiente. Ecco, quindi votare oggi una mozione su un particolare arredo, vietandone l'uso e costringendo in determinati tempi solo per quella piazza a effettuare un nuovo tipo di studio sarebbe un elemento, diciamo, di stranezza, quantomeno. Non è il nostro modo di lavorare e noi vorremmo intervenire in modo eco e uniforme in tutti i tessuti sia della città storica che periferici. Per questo motivo ci asterremo. Grazie.